Gli scaffali una volta pieni di pasta al deposito della cittadella della Carità d'Avellino sono pressoché vuoti. L'effetto della guerra in Ucraina pesa anche sul piatto dei poveri. L'allarme lanciato dalla Caritas di Avellino riguarda soprattutto le forniture di pane e pasta, beni di prima necessità che sembrano scasseggiare, visto l'impegnata dei prezzi del grano provocata dall'invasione russa. Il direttore della Caritas e Carlo Mele, il vice donvi italiano della sala, hanno inviato in queste ore una lettera ad alcune aziende impegnate nel settore agroalimentare per chiedere aiuto, tra l'altro con la pandemia e la guerra in Ucraina. Il numero dei poveri da Sissari con i servizi offerti dalla cittadella della Carità. Si sono raddoppiati, 100 i pasti distribuiti dall'oblò della mensa, 600 i pacchi alimentari diretti alle famiglie bisognose, numeri da codice rosso su cui incombe ora anche l'incubo della guerra in Ucraina. Sì, sono aumentati le persone che vengono a chiedere ovviamente, ma noi eravamo pronti a questa eventualità. Chiaramente il problema è legato all'esportazione di grano da parte dell'Ucraina e ha fatto sì che il banco alimentare riducesse di molto la consegna di pasta. Insomma, i nostri depositi stanno cominciando ad abbassare il livello della pasta. E quindi l'appello è, come sempre, al cuore degli Irpini, delle singole persone, delle nostre aziende, a regalarci un po' di pasta, insomma, se è possibile, così che non interrompere. Perché la pasta, che negli anni scorsi sembrava un bene molto così, come dire, qualcosa in più che si dava, anzi, molte persone non lo volevano nemmeno. Adesso, viste le previsioni, insomma, per i prossimi mesi, i prossimi anni, è diventato veramente un bene di prima necessità. Anche perché si sono duplicati, se non triplicati, i pasti e anche le confezioni dei pacchi alimentari. Sì, si è tutto aumentato. È un po' come avviene per gli stipendi. Cioè, aumenta il prezzo dei prodotti e gli stipendi restano sempre gli stessi. Ecco, parte la battuta. Insomma, lo stesso capita qui. Sono aumentate le famiglie, le persone che chiedono un aiuto, che chiedono una mano. E purtroppo, dopo la pandemia, con la guerra in corso in Ucraina, ecco, diminuiscono i generi di prima necessità. Lei ha scritto in queste ore anche ad alcune aziende, ad alcuni imprenditori? Eh sì, che ci hanno sempre aiutato. Quindi abbiamo semplicemente, con il direttore Carlo Mele, abbiamo semplicemente appunto presentato il problema e siamo certi che anche queste aziende, insomma, ci daranno una mano.